Un gran evento di ripartenza dopo purtroppo con l'alluvione dello scorso anno che riporta Cantiano su una vetrina nazionale con un grande evento di promozione che genera ricadute economiche reali sul paese. Due giornate, l'8 e il 15 ottobre in cui a farla paradrone sarà il cavallo, il cavallo del Catria in particolare, il turismo equestre, le animazioni equestre all'interno di un contenitore che ha un'unicità, quella di essere oltre un ettaro di terreno alle pendici del Monte Catria in un contesto ambientale di alta qualità che offre un paniere di prodotti tipici di alta qualità. E quindi ecco, una giornata, due giornate, due domeniche legate alle famiglie con intrattenimenti di vario titolo, quelli equestri con delle dimostrazioni di alta caratura nazionale che provengono da Fiera Verona Cavalli, Roma Cavalli, dei Guinness World Record rispetto a alcune tipicità e manifestazioni equestre, più alcuni spazi di intrattenimento generalista, musica country e animazione per i bambini, il battesimo della sella, la possibilità quindi che i bambini salgano per la prima volta sul cavallo, quindi ecco un vasto contenitore all'interno del quale si potrà trovare un'intera giornata di relax e di intrattenimenti vari con questo indessolubile legame, con questo nobile animale nel territorio in cui nasce e nel quale liberamente vive tutto l'anno.